10 motivi per cui i narcisisti ti odiano. Prima di affrontare il tema, però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo tra abbonamenti per partecipare alle live a diverso livello e l'abbonamento consulting per una consulenza individuale telefonica che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi in campo sentimentale-affettivo con una strategia mirata. Ma veniamo, cara Malgasciona, al tema 10 motivi per cui i narcisisti ti odiano. Allora, i narcisisti, diciamoci la verità, hanno sempre rabbia, hanno sempre rancore, hanno sempre risentimento compresso. E quindi diciamo che l'odio è una delle cose che il narcisista manifesta maggiormente, che il narcisista manifesta di più. Quindi questo devi tenerlo presente. Il narcisista manifesta odio, manifesta rancore, manifesta risentimento. E bisogna tenere presente questo fatto. Quindi è molto importante questa cosa. Il narcisista ha dei motivi, anche se è relazionato con una persona. Questo è il paradosso, no? Il narcisista sta relazionato con una persona, ma la odia. Non può amare. E quindi ha il patto scompresso, ma ha invece libero la reattività. Quindi il narcisista odia. Il narcisista, anche se sta con te, ti odia. È questo che devi tenere presente. Il narcisista ti odia. E purtroppo devi tenerlo in considerazione. C'è un odio profondo del narcisista verso di te. E quindi devi cercare di uscire fuori da questo meccanismo. Devi cercare di uscire fuori da questa situazione perché non puoi continuare in questo modo. Verrai odiato, verrai messo in situazioni nefaste, negative. Per cui è davvero, davvero negativa la situazione. Insomma, il narcisista cova rabbia, cova rancore, cova risentimento. Ecco quindi che invece tu dovresti iniziare a gestire meglio la tua relazione. Dovresti iniziare ad avere più situazioni migliori. E quindi renderti conto che ci sono dei motivi insiti nel narcisista per provare un odio profondo nei tuoi confronti. Il decimo motivo, partiamo da quelli meno importanti, per arrivare al più importante. Il decimo motivo è che invidiano il tuo successo. Il narcisista invidia il tuo successo. È una motivazione forte questa, ma è reale. Il narcisista invidia il tuo successo. Il narcisista ti ignora. Cioè, ti odia se tu li ignori, tra virgolette, perché hai una tua vita. O comunque se non li dai tutta la considerazione. Allora, tieni presente che il narcisista si sente ignorato anche se non viene adulato. Quindi, ma, diciamo, poi anche per il primo punto, quello dell'invidia. Il narcisista invidia costantemente. Cioè, non è che il narcisista non invidia. Il narcisista invidia costantemente. Ha un'invidia atavica il narcisista. Ha proprio, come dire, una forza per cui riesce a invidiare tutto e tutti. Non è possibile che il narcisista non ti invidi. Ha un'invidia conclamata, fortissima. E come, nello stesso modo, invidia, cioè odia le persone che non sono completamente disponibili nei suoi confronti. L'ottavo punto, il narcisista ti odia se tu lo metti sul tuo stesso livello. Cioè, se non lo metti a un piano superiore. Pensate con che caratteristiche che ha il narcisista. Ti odierà sempre, ma il fatto è che tu... Quindi, tutte queste cose qua stimolale. Cioè, devi avere successo. Devi ignorarli. Devi metterli sul tuo stesso livello. Se non a un livello più basso del tuo. Perché questo si meritano. Essere messe a un livello più basso del tuo. E il settimo motivo, sempre in ordine, partiamo dal decimo fino al primo, è che se ti odiano, se tu sembri felice. Odiano le persone felici. I narcisisti odiano le persone felici. E soprattutto odiano se tu sei felice senza di loro. E quando li lasci e ti dimostra ancora più felice, se tu riesci a farlo, ti odieranno ancora di più. Però è una soddisfazione essere odiati da un narcisista. È veramente una soddisfazione. Sesto motivo, un narcisista è geloso di te, di chi sei, di cosa hai, delle tue capacità. E udite, udite, per questo motivo ti odia. Ti odia per la persona che sei. Ti odia per quello che hai. Che magari lui non ha, ma non importa. Comunque, ti odia se hai delle capacità. E questa è una forma d'odio che praticamente i narcisisti hanno sempre. Quindi dimostrali comunque di essere una persona di qualità. Dimostrali, cerca di avere, dimostrali le tue capacità. Se vuoi farti odiare. Ma tanti narcisisti ti odiano comunque, quindi devi toglierti dai marroni fondamentalmente. Quinto motivo, ti odiano semplicemente per il piacere di sentirsi superiore. Ti odiano per il piacere di odiare. Perché è una dimostrazione di superiorità. Loro credono. Non si rendono conto che invece è soltanto una dimostrazione del fatto che sono inferiori. Non se ne rendono conto. Però in realtà è così. E udite, udite, il narcisista ti odia se gli dici di no. Oppure se gli dici ti sbagli. Questo li farà infuriare. Li farà uscire il fumo dalle orecchie. Il fumo dal naso. Avete presenze di quei toghi? Diggli di no e digli che sbaglia. Questo lo manda in panico. Il narcisista si odia, ti odia. Terzo motivo. Veniamo al podio. Se tu gli dici e gli dimostri che ha commesso degli errori. Questo è una pugnalata al cuore per il narcisista. Dì, guarda che hai sbagliato qua. E te lo posso anche dimostrare. Quando sono messi all'angolo i narcisisti non sanno più che fare. E' veramente, veramente importante questo. Perché loro non possono accettare che uno gli ha commesso un errore. Neanche piccoli. Non possono pensare che tu gli possa dirgli a loro l'esa maestà che hanno commesso un errore. Anche se gli porti le prove. Pazzesco, ma è così. E un'altra cosa. Il narcisista ti odia è perché prova una profonda invidia per la tua autostima. Quindi se tu, questo è il secondo motivo, se tu hai una forte autostima e devi averla, scatenerà questo l'odio profondo del narcisista perché invidia profondamente la tua autostima. Il primo motivo di odio è se tu sei leale e gratifichi qualcuno che a loro non piace. Praticamente a loro non piace nessuno, quindi capiscono che tu non sei leale solo a loro, ma dai stima, dai considerazione, lealtà, amicizia, amore a qualcuno che non è loro. Questo è un motivo per loro di odio. Di odio perché una cosa che il narcisista non tollera è essere messi in secondo, terzo, quarto piano rispetto ad altri. E quindi mettili all'ultima ruota del carro se proprio deve agire. E questo è quello che dovresti fare. Se vuoi sconfiggere definitivamente i narcisisti, questi sono dieci motivi per cui i narcisisti ti odiano, tu stimola, prova a stimolare queste cose e vedrai come li fai schiattare. Quindi ricapitolando, devi avere successo, devi ignorarli perché tu hai una tua vita. Devi metterli almeno sul tuo stesso livello. Devi essere felice. Devi dimostrare al mondo di avere delle capacità, di avere delle cose, insomma. Devi impedirli di sentirsi superiori. E quando è un momento, digli di no e digli anche ti sbagli. Questo PAM! E se commettono degli errori, portagli le prove, fargli vedere tutti gli errori che hanno commesso. Coltiva e fortifica la tua autostima e impara a essere leale con le persone. Meno che col narcisista. Io col narcisista non sarei neanche leale perché non si merita neanche questo. Sto topo di fogna. Bene, questi sono i dieci motivi per cui i narcisisti ti odiano. Per questo video è tutto. Seguimi su Instagram. Intanto iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram. Massimo Tramasco ufficiale, ovviamente. Seguimi su TikTok! E ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile. Basta andare nella home page. Tastina abbonati. Che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer e poi seleziona l'abbonamento che preferisci. E ti ricordo che su questo canale ci sono diversi livelli di abbonamento. Abbonamenti base a diversi livelli per partecipare alle live. E l'abbonamento consulting per una consulenza individuale. Ti ricordo che con l'abbonamento consulting avrai modo di interagire direttamente con me e quindi elaborare delle strategie per conquistare, sedurre, far innamorare le persone che vuoi. Bene. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!